un saluto da casa milan da francesco simone giorgia e pasquale un saluto a michele e agli amici di termoli online perché mi sono sposato alla cala sveva ringrazio anche fabrizio e termoli è piaciuta a tutto il team di milan tv ci manca ci manca per abbiamo apprezzato a tutta la media house grazie anche all'organizzazione della cala sveva sono tutti venuti tranne giorgia che non è vero comunque avrei modo di vedere termoli di apprezzare le bellezze di termoli che grazie per l'ospitalità che tutta casa milan media house milan tv ha apprezzato dunque un caro saluto e guardate l'anello ciao un caro saluto a tutti